L'attacco delle forze israeliane a Gaza è arrivato a livelli di atrocità terrificante. La parte settentrionale della striscia in particolare sta venendo cancellata dalla mappa. Proprio in questi giorni le forze israeliane hanno ordinato lo sfollamento di circa 400.000 palestinesi, già intrappolati da mesi in quella zona della striscia. Seppur non confermato ufficialmente, tutto ciò sembra rispondere agli obiettivi del cosiddetto piano Eiland, disegnato appunto dal generale Jorah Eiland. Il piano, come descritto dal generale stesso, prevede infatti il completo trasferimento forzato dei civili della striscia di Gaza settentrionale attraverso l'inaspiramento dell'assedio e l'affamamento deliberato della popolazione rimanente. Difficilmente però la popolazione del nord, 400.000 persone, già sfinita da continui bombardamenti, fame e sete, si sposterà verso la zona sud-est come indicato dalle forze israeliane. Ricordiamo che l'atto deliberato dell'affamamento e del trasferimento forzato sono crimini di guerra. Negare gli aiuti non è altro che accrescere la sofferenza dei civili che non devono mai essere costretti a fuggire dalle loro case per accedere ad aiuti salvavita. Coloro che scelgono di rimanere nelle loro case devono essere protetti, in conformità col diritto internazionale umanitario, e gli aiuti devono fluire in base ai bisogni umanitari, non agli obiettivi militari. Oxfam chiede a tutte le parti, in particolare a Israele, di concedere immediatamente l'accesso pieno e limitato delle organizzazioni e delle agenzie umanitarie internazionali a Gaza, in particolare a Gaza Nord. Inoltre va ribadito che qualsiasi tentativo di alterare l'integrità territoriale di Gaza, come l'annessione e lo spopolamento totale o parziale, è una fragrante violazione di molteplici norme del diritto internazionale. L'assedio in corso e le incursioni militari mirano infatti a ridisegnare i confini di Gaza e ad alterare il paesaggio demografico e territoriale. Ciò è particolarmente grave alla luce del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sull'occupazione, definita illegale, nel territorio palestinese occupati da parte di Israele, e una violazione delle misure urgenti richieste proprio dalla Corte di Giustizia Internazionale riguardo al rischio di genocidio a Gaza, che aggiungono anche l'obbligo per gli stati terzi, come l'Italia, di agire con decisione, cosa che finora non hanno fatto. La comunità internazionale, Italia compresa, sta di fatto dando il via libera allo sfollamento forzato e alla fame dei palestinesi. Gli stati terzi devono agire ora per prevenire queste atrocità e utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per impedire che questo disastro si verifichi. Gli stati terzi che rimangono passivi di fronte alle azioni di Israele saranno complici nella distruzione del nord di Gaza e dei crimini commessi, in particolare dal rischio di genocidio. Gli stati terzi che rimangono passivi di fronte alle azioni di israele. Gli stati terzi che rimangono passivi di fronte alle azioni di israele.